Un modo per affrontare e ripercorrere quelle che oramai sono le numerosissime esperienze legate ai beni comuni, vale a dire alla sfera del comune, di ciò che le collettività pongono oggi come un discorso centrale, vale a dire innanzitutto il rispetto dell'interesse pubblico e dell'interesse collettivo. Studiosi, attivisti e comunità dei cittadini di tutto il mondo a confronto sul tema dei beni comuni. È partita la seconda World Commons Week, un appuntamento internazionale con eventi locali e seminari sul web, cui partecipa la città di Napoli, per discutere e presentare le proprie esperienze in materia di acqua pubblica, processi di rigenerazione urbana, neomunicipalismo, democrazia partecipata, usi civici e collettivi urbani. L'occasione per la celebrazione del premio Eleanor Holmstrom, che è uno dei premi più prestigiosi nell'ambito dei beni comuni, che premia un ricercatore che è qui oggi con noi, che è Giuseppe Micciarelli, insieme con la città, per le delibere e per il lavoro anche che la città ha fatto e per noi è un premio anche alla città. Ecco, questa metodologia di lavoro comune, dove il conflitto sociale non è obliterato, ma è l'inizio di un discorso in cui si impegna anche l'amministrazione, ecco, questo tipo di impegno è qualcosa che in questa fase storica è molto importante. La settimana dei beni comuni nella città dei beni comuni. Insomma, Napoli con i fatti, con il diritto, con le collettività, con la partecipazione democratica, ha dimostrato che bene comune non è una parola vuota, ma una parola che può cambiare la vita con contenuti oggettivi. Potrei citare dall'acqua pubblica, che siamo l'unica città che ha attuato il referendum sull'acqua pubblica, alle delibere o seggiorno bene comune, alla non svendita del patrimonio immobiliare monumentale, alla partecipazione democratica, alle delibere dall'asilo filangeri, alle altre comunità di abitanti che autogovernano, autogestiscono luoghi della città, alla rigenerazione urbana, al sovvertire il rapporto tra legalità e giustizia, a mettere al centro la persona rispetto al denaro. Insomma, è una città che ha dimostrato, con la partecipazione e col diritto, tra governanti e governati, tra rappresentanti e rappresentati, che si può scrivere una pagina diversa rispetto a coloro che sono arrivati sull'orlo dell'abisso e della fine del pianeta, con le politiche neoliberiste, col capitalismo sfrenato e col consumismo universale si sta distruggendo il pianeta. Napoli va in una direzione opposta e siamo orgogliosi di questo.